Ciao Alice, vi ritrovate sul nostro canale in prossimità della festività dei notti. Anziché farvi vedere come preparare il passico torrone, vi farò vedere come preparare dei mini torroncini dai vari piscini. Ci serviranno 250 g di cioccolato fondente, 150 g di nocciole, 250 g di cioccolato bianco, 300 g di nutella, 300 g di crema spalmabile al latte, 100 g di riso soffiato, un pennellino da cucina e degli stampini per il ghiaccio. Come prima cosa scioglieremo il cioccolato fondente e aiutandoci con il pennellino rivestiremo il nostro stampino del ghiaccio, in questo modo. Una volta rivestito il nostro stampino, lo andremo a mettere nel frigo per una mentina di minuti. O anche magari nel freezer per 10 minuti, per fare più presto. Rivestiamoci anche quest'altro per torroncini di un altro gusto. Eccolo qua. Anche il nostro secondo stampino è stato rivestito. In questo modo. Andiamo a mettere anche questo nel congelatore per 10 minuti o frigo un poco in più. Inserfiamo la nostra cioccolata fusa che è rimasta per coprire la superficie degli stampini pieno. Scioglieremo il cioccolato bianco e lo andremo ad aggiungere alla nostra crema di nocciole. Mescoliamo il tutto. Una volta mescolato andremo ad occuparci del ripieno. In questo modo. Oltre a riempire il nostro stampino, andremo ad aggiungere ad ogni quadratino una nocciola. Mettiamo nel frigo per una mezz'oretta oppure nel freezer per un quarto d'ora e poi rivestiremo la superficie con il restante cioccolato fondente. L'altra varietà di torroncini ci servirà della crema di nocciole scura, del cioccolato bianco che abbiamo fuso e del riso soffiato. E del cioccolato fondente per ricoprire la superficie. Una volta aggiunto il cioccolato fuso bianco alla crema di nocciole, andremo a mescolare e ci occuperemo del ripieno dell'altro stampo. Prima di fare tutto ciò, però, aggiungeremo anche il riso soffiato. Dopodiché andremo a riempire il nostro secondo stampo. Trascorso il nostro tempo di attesa, andremo a capovolgere i nostri torroncini. Ecco pronti i nostri torroncini. Torroncini alle nocciole e torroncino ai cereali. Un bacio! locations красi solitari. Una resta da via i nostri torroncini. Grazie a tutti.